Sarà sicuramente il tema della servitizzazione centrale, proprio in questi momenti si stanno programmando, stiamo predisponendo le schede tecniche per la futura programmazione e quindi rinvieremo in maniera esplicita i futuri bandi, già oggi prevederemo punteggi aggiuntivi per chi orienta la propria produzione verso la servitizzazione, quindi questo è centrale nella politica regionale che l'assessualità Bini sta portando avanti.